Buongiorno, domenica pomeriggio, il quarto giorno di Fiera Cavalli della 125esima. Fiera Cavalli siamo già tutti tristi perché stiamo per tornare a casa, ma siamo qui con Amalia Gnecchi Ruscone e questo ci fa sorridere perché vedere Amalia è sempre bello, una ragazza giovane, appassionata che vive di cavalli dopo aver trovato la sua strada, partendo anche da lontano, perché adesso lei è arrivata a Cavalluna e fa gli spettacoli equestri con i suoi cavalli in Sela d'Amazzone, sei partita dagli attacchi del tuo papà ma sei sempre rimasta in mezzo ai cavalli, Amalia. Sì, una brutta malattia, ho cominciato con gli attacchi perché il papà aveva questa grande passione e poi ho praticato un po' di saltostacoli, ho approfondito un pochettino un lavoro in piano, l'alta scuola, ho fatto competizioni di endurance per dieci anni e poi mi sono proprio specializzata nella monta all'Amazzone che è nata come una curiosità, è diventata una grande passione e adesso un lavoro, quindi ho questa grande fortuna di aver potuto fare della mia passione il mio lavoro. Che cosa ti piace del montare all'Amazzone? L'originalità In effetti è la cosa che affascina tutti noi perché quando vediamo passare una ragazza, una signora con le gambe da un lato, così elegante, così bella che vorremmo tutti provare, la tentazione viene a tutti. Tu tramite anche questa disciplina, questa specialità, sei arrivata una delle protagoniste di Cavalluna. Qual è il numero, che è tra l'altro lo spettacolo equestre più importante di tutta Europa? Gira principalmente nelle città del nord Europa, ma pensate, uno spettacolo così grande, così bello, così internazionale vede moltissimi protagonisti italiani. Che cosa state portando in scena adesso? Qual è la tournée dove siete impegnati? Allora, adesso siamo impegnati in una tournée di nove mesi, abbiamo una città diversa ogni settimana nel nord Europa, come giustamente dicevi tu, è praticamente quasi tutta la Germania, facciamo tutte le regioni della Germania, poi facciamo l'Austria, facciamo il Belgio, facciamo i Paesi Bassi, facciamo la Svizzera tra due settimane, tra l'altro saremo a Zurigo, per chi vuole venire a vederci, è la data più vicina per chi vive in Italia, e poi avremo anche la Danimarca e la Finlandia. Meraviglioso, viaggiate il mondo, vedete veramente? Sì, in verità, in verità vediamo tantissime arene, delle città vediamo un po' meno, e un sacco di cavalli, sempre un sacco di cavalli. Questo sono sicura che vi piacerà. Tra l'altro arene, dicevi, la cosa bella di questo spettacolo che portate in scena negli palazzetti sportivi? Sì, sono i grandi palazzetti che potremmo comparare al nostro Palasharp di Milano, quindi di solito ci si aggira da un 5.000 a un 20.000 persone per palazzetto. Fantastico, io farei il tifo per avere i cavalli al posto delle partite di pallavolo, di pallamano, ma non me ne vogliono le federazioni di riferimento, perché sono di parte. Ma oltre a viaggiare così tanto, oltre a lavorare così tanto, tu hai trovato anche il tempo per scrivere un libro, Malia, ma come hai fatto? Come ho fatto? Ho avuto un anno libero da cavalluna per preparare un nuovo cavallo che ho portato quest'anno e in tutto questo ho avuto questa opportunità da parte della Mondadori di scrivere questo libro. È una collaborazione che loro mi hanno chiesto perché sembra che mancasse un po' il settore dell'equitazione nella fascia dei giovani, quindi loro volevano una persona che avesse qualche bella storia da raccontare e che potesse ispirare i giovani in qualche modo ad avvicinarsi anche all'equitazione e speriamo di esserci riusciti. Come si chiama il titolo del libro? Un cavallo nel cuore? Sì, lo so, l'ho letto, è vero. Un cavallo nel cuore, sì. Edito da Mondadori e di cosa racconta, di cosa parla? Allora, mi è stato chiesto di seguire una linea un po' guidata sul filone della storia e per il resto è in buona parte un po' la mia esperienza cavalluna, un po' la storia di uno dei miei tre cavalli. È una cavalla molto speciale che ho da quando ho tre mesi, oggi ho 12 anni. Diciamo, come si chiama? Si chiama Avoria e per gli amici si chiama Cavalletta. E si esibiva proprio in questi giorni nel padiglione 9 di Echitazione Iberica. Fantastico, quindi avevi questa cavalla con te nel lavoro e tutti possiamo leggere di lei nel libro che troveremo da Mondadori. Amalia, ti ringrazio tanto perché so che sei molto impegnata, ma per noi è stato un regalo averti qua ancora, è sempre piacevole stare con te, grazie. Un piacere mio, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.